Lozzo a testino è stata improvvisamente investita da un getto di vapore bollente che l'ha raggiunta alla schiena ustionandola mentre si trovava in catena di montaggio. Vittima dell'infortunio sul lavoro, una ragazza di 27 anni, immediatamente soccorsa dai colleghi e quindi accompagnata dal personale del 118 al pronto soccorso di Padova. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal.